Buongiorno, sono Paolo Motta, Creative Solution Business Manager EMEA. Le nuove frontiere della comunicazione sono legate alla multicanalità, all'interattività. Abbiamo statistiche ed esempi che ci indicano che molte aziende, no anche non editori, stanno andando verso la comunicazione multicanale, una comunicazione legata a diversi media che interagisce con il pubblico. Quindi una comunicazione a doppia via che cerca anche negli utenti interazione e comunicazione da questo punto di vista. Sia il web che il mobile che altri dispositivi stanno crescendo a doppia cifra e per cui nei prossimi anni non si potrà fare a meno di non considerare questi nuovi dispositivi. I principali risultati di Adobe legati alla tecnologia sono una larghissima diffusione di flash. Abbiamo raggiunto più del 90% di dispositivi che già in maniera nativa utilizzano flash. Un'altra tecnologia che sta andando per la maggiore e su cui stiamo investendo molto è Air. È una tecnologia che consente di visualizzare i contenuti anche in maniera offline. Per cui abbiamo due tipologie di tecnologie. Una tecnologia offline dove flash è la tecnologia principe. Flash è installato su circa 300 milioni di telefonini, per cui di dispositivi mobili. Abbiamo circa 300 milioni di download di Air che è una tecnologia per visualizzare i contenuti in maniera offline. Questi sono i due maggiori trend, la punizione tecnologica per Adobe in questo momento. In futuro prevediamo che il video sia una tecnologia e un modo di visualizzare i contenuti che esploderà. Già oggi ci sono milioni e milioni di utenti che visualizzano video su svariati dispositivi. Noi crediamo che questo aspetto legato al video si esaspererà ancora nei prossimi anni. Stiamo studiando delle metriche anche per misurare il quanto e come gli utenti visualizzano i contenuti video sui vari dispositivi. Questa è una nuova frontiera e ci stiamo lavorando molto alacremente a questa nuova tecnologia.